ciao ragazzi faccio questo video perché mi avete scritto in centinaia su instagram circa la questione dell'incidente non ho potuto rispondere a tutti ma faccio una premessa non è che non ho potuto rispondere perché ero mezzo morto in ospedale ma perché ero in ospedale ma col pit stop è stata una licenza velocissima perché poi ero in ballo con delle questioni di lavoro inderogabili e quindi dimesso dall'ospedale sono dovuto andare avanti a lavorare a prescindere da traumi contratture operazioni placche d'acciaio e tutto mi avete chiesto in tanti che cosa esattamente sia successo allora faccio un sunto veloce ero a fare la tappa del la tappa 5 e 6 che non ho potuto fare del campionato italiano di motorelli a pellegrino parmense quindi provincia di parma e la mattina è andata molto bene anzi vi faccio vedere qualche piccola ripresa in soggettiva fare una lancia a favore si avvicina con la prima volta il campionato italiano motorelli si confronterà con quella che è la disciplina della navigazione tra l'altro pilota abbastanza giovane classe 82 corre con una ktm 450 si inserisce a pieno titolo in quella che è la classe di vertice appunto il 4 al mezzo vedremo appunto come sarà questa giornata dopo due settori selettivi rispettivamente ricordo ancora di 17 e 24 chilometri e una totale di giornata di 144 chilometri al suo fianco il pilota numero 100 e 30 massimo ferrari prossimo dello start aspettiamo il countdown dalla tecnico giustamente di percorso ecco che viene sposto la mano 3 2 1 ed è una testata vedendo la sauna che riesce per noi 35 43 destra 35 88 36 46 37 38 39 40 42 43 42 43 43 44 44 44 no 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 arrivo al punto di controllo di assistenza di verso mezzogiorno erano le 12 52 buongiorno cosa si è no ma più che altro che pensavo che il trasferimento cioè fosse una passeggiata all'inizio me la son presa comoda parca era peggio della speciale 52 faccio il pieno alla moto mi mangio una barretta energetica avevo ben 55 minuti di anticipo sulla tabella di marcia alle 12 52 griglia di partenza riparto faccio due chilometri di asfalto tra due rotonde le prime note prima prima nota di svolta in fuoristrada una sorta di salita abbastanza blanda a chiamarla mulattiera secondo me quasi eccessivo e alle 12 57 boom cado cado perché perché un ragazzo davanti a me praticamente fermo mi stava rotolando addosso perché è caduto mi stava proprio rotolando addosso io mi sono un po' deconcentrato ma ero in trasferimento non andavo molto forte guarda lui guarda lui riguarda lui ero dentro a una careggia e niente la moto mi ha disarcionato e ho picchiato la spalla abbastanza violentemente a destra sento un bel dolore un urlo un po' di nervoso ma niente di più e dico aia la botta è stata forte no ok mi rialzo spengo la moto che era ancora accesa sento male e non poco e dico mi sa che qualcosa qua non va ho aspettato un paio di minuti il dolore peggiorava allora dico vabbè devo chiamare l'SOS relli il numero di telefono di sicurezza prima però di chiamare loro per non far spaventare mio padre che era lì al paddock chiamo lui e gli dico papà mi sa che ho rotto qualcosa la sua risposta è stata ma perché la moto non si accende più e io no no la moto l'ho spenta sono io che mi sono rotto qualcosa quindi va bene si è innescato tutto il processo di supporto per potermi venire a recuperare c'era un po' di panico generale perché c'erano stati altri incidenti lungo il percorso comunque mi portano lì all'ingresso del paddock poi è arrivata l'ambulanza mi hanno trasportato perché avevano già accertato che ci fossero delle fratture un po' importanti lì per lì però io tenevo il braccio appeso allo zaino idrico e sentivo sollievo solo che non avevo capito la dinamica del perché sentissi sollievo perché arrivo in ospedale lì a lì vicino non mi ricordo dopo salso maggiore comunque mi hanno fatto le lastre tutto è arrivato il dottore mi ha detto hai fatto un bel danno perché hai tranciato completamente di netto la scapola e la clavicola e quindi il braccio sostanzialmente era appeso per i muscoli e i nervi e per quello che mi faceva male e lì ho realizzato effettivamente ad aver fatto un danno un po' grosso mi son fatto poi grazie al supporto anche della famiglia amici e tutto trasferimento a Galeazia Milano lì subito e d'urgenza mi hanno ricoverato e niente sostanzialmente l'operazione è consistita nell'inserire un tutore nella clavicola anteriormente perché la clavicola era scomposta in diversi punti hanno messo questa placca di boh titanio materiale con il quale fanno le stelle e cose così con tante viti per tenere diciamo il braccio di nuovo appeso meccanicamente e far sì che poi la scapola dietro si potessero lentamente ricostruire eccetera eccetera il braccio non ha subito danni a livello proprio di rotatori e robe del genere quindi il braccio in sé non si era rotto si era rotto tutto il telaio che lo sorreggeva l'operazione è andata molto bene ieri sono andato a far levare tutte le graffette che mi avevano graffettato tipo risma di carta quello che ora c'è da fare è la riabilitazione passiva del braccio perché si fa un po' fatica da solo non si muove più di tanto si muove se lo aiuto e però va tutto bene quindi serve solo pazienza devo un pochino riabituare il braccio poi adesso è ancora un pochino gonfio che mi da un po' fastidio ma sostanzialmente è quanto quindi sto assolutamente bene mi hanno prescritto punture antidolorifici un sacco di cose però io cerco sempre di farne un uso abbastanza ponderato perché poi non è tanto perché sono autolesionista e amo sentire dolore ma l'effetto che ti da il Thoradol piuttosto che altri farmaci è di non sentire più niente quasi nel voler fare una verticale sulle braccia e questa cosa ha una percezione sbagliata perché poi se anche vai a letto non senti il dolore quindi dormo sulla spalla poi magari faccio più danni di quelli che non ho già fatto nel trauma quindi se se è tutto ponderabile si cerca di non prendere tutti i farmaci poi mi hanno prescritto gli anticoagulanti con le punture di eparina però siccome il braccio lo muovevo già bene ieri il dottore mi ha ben consigliato di sospendere queste punture perché tanto non non è più necessario sono passati 16 giorni dall'operazione va tutta la grande e niente adesso abbiamo davanti agosto per fare una buona riabilitazione un po' passiva un po' attiva e poi a settembre se tutto va bene si ritorna ovviamente in sella ragazzi vi ringrazio e alla prossima ciao ciao